Per le aree interne è un momento drammatico. La condizione dei piccoli comuni, da sempre attrattori di turisti anche per lo sci, è appesa ad un filo. Le telecamere di Rete 8 arrocca di cambio, dove in paese è tutto bloccato, tutto chiuso e così non si può reggere a lungo, spiega il sindaco Gennaro Di Stefano. Alberghi, ristoranti, maestri di sci e stazioni chiuse, non si lavora, non c'è indotto, per cui l'economia è a zero, anche in virtù della mancanza di quelle persone che hanno sul territorio le seconde case. Il paese così non può reggere, il paese così è fermo, tutte le attività sono ferme, albergatori, ristoratori, maestri di sci, noleggiatori, la stazione di sci è ferma e con la stazione di sci ferma naturalmente non si muove niente, perché questi locali sono già chiusi dal Covid e poi non c'è indotto, non c'è niente, pertanto non può reggere a lungo. La situazione di ristoro è pochissima, qui è arrivato pochissimo di ristoro qualcosa ai ristoratori, per quanto riguarda gli impianti ne stanno discutendo adesso, credo che in settimana decideranno qualcosa in regione per dare ristoro agli impiantisti di tutto l'Abruzzo e quindi qualche cosa toccherà anche qui a Campo Felice, ma ancora devono deciderlo. Consegno a domicilio, asporto pochissimo, anche perché il paese è chiuso, siamo stati ben attenti a rispettare il DPCM, quindi turisti che hanno le seconde case non sono venuti, pertanto l'asporto qui in paese non c'è. Posti che però hanno tantissime potenzialità, paesi bellissimi. In questi giorni si discute sull'arrivo della tappa del Giro d'Italia. Se la regione ci aiuterà, per noi sarebbe una boccata d'ossigeno, spiega il sindaco. L'appello che fa il territorio lo fa la regione Abruzzo, la regione ci deve dare una mano, anche perché in un momento come questo, di covid, di impianti chiusi, di tutta l'attività turistica e produttiva che c'è chiusa, il Giro d'Italia sarebbe una buona opportunità di rilancio, pertanto se la regione ci dà una mano sostanziosa, noi diremo sì alla tappa del Giro d'Italia. Grazie a tutti.